Media Goal, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo calcio. Mi danno di anziano e hanno ragione. Io ti faccio una domanda che non è te la posso fare solo io, ma però io mi ricordo di una cosa specifica. Dieci anni fa tu ho allenato il Palermo e la fine del campionato, in condizioni completamente diverse, la società che praticamente non esisteva più, un momento di passaggio difficilissima, fu però pesante e difficile per te, per la squadra in generale. Vincesse una partita col Messina, eravate quasi alle soglie della corsa della Serie A, da allora non vincesse più una partita, soltanto pareggi per una. Trovi dei punti di riscontro con questa annata così particolare, pur diverse le condizioni, la serie, la categoria, la squadra? Non c'è nessun nesso, nessun nesso assolutamente, perché è qui… Con i doni? Sì, no, però non ha nessun nesso, perché questa è una realtà che abbiamo preso in mano in corsa, in una situazione particolare e che deve essere gestita e nello stesso modo riuscire a completare un lavoro che il Presidente ha ritenuto che fosse importante, però portare la squadra alla salvezza, ha visto un po' le problematiche che si erano manifestate e che potevano così evidenziare. L'altra volta era una situazione dove dopo sei mesi non c'era più nessuno, per cui sono due realtà e due situazioni proprio diverse, dove allora c'era un fuggi-fuggi generale e nello stesso tempo bisognava comunque lavorare, invece quest'anno abbiamo fatto un campionato in questi quattro mesi importanti in virtù di una realtà che poteva anche complicarsi di più allo stesso tempo, siamo riusciti a navigare bene, mantenendo sempre la calma, anche in momenti non brillantissimi, riuscendo sempre a proporre una squadra competitiva anche con momenti di grande emergenza, tirando fuori anche qualche ragazzo importante, siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto, facciamo delle valutazioni proprio con grande serenità, diciamo così, proprio in un'annata e che qualcuna definita da transizione non poteva essere anche a grande rischio sotto certi aspetti. Tu giustamente vai orgoglioso del lavoro fatto, allora ti chiedo perché non c'è una candidatura muti anche per proseguire questo lavoro che tu hai iniziato? Ma quello bisogna chiederlo a chi dovrà gestire il futuro, io sono venuto per un certo tipo di lavoro, penso di aver lavorato molto bene in momenti anche di grandi incertezze a livello di situazione così vicino all'allenatore e alla squadra, dove effettivamente al di là di certe presenze l'unica presenza vera era il Presidente che era lontano e nello stesso tempo però siamo riusciti sempre a mantenere grande spessore e capacità operative e questo è quello che andiamo fieri. Poi non lo so cosa pretendevano di più, bisogna chiederlo a chi farà le proprie scelte, io penso che abbiamo lavorato in maniera molto oculata e recuperando giocatori che erano al macero sotto certi aspetti, che erano abbandonati e purtroppo negli ultimi due mesi abbiamo avuto, abbiamo pagato probabilmente anche questo inizio di particolare campionato senza una preparazione adeguata e tutto, abbiamo perso per due mesi i giocatori magari cardini che ci hanno tolto quei 5 o 6 punti che la squadra meritava in più, per cui forse si vedevano le cose un po' diversamente perché poi tutto questo è in virtù dei 5 o 6 punti che magari ti possono mancare nella classifica e nello stesso tempo noi sappiamo bene perché non ce li abbiamo però non possiamo farci niente, per cui noi valorizziamo, noi pensiamo di aver io e il mio staff lavorato in maniera veramente importante e seria e nello stesso tempo se non siamo candidati a guidare il Palermo andremo da un'altra parte, è mica la fine del mondo. Riguardo alla partita di domani, Lino, ti volevo chiedere se pensi a fare un po' di turnover e a fare giocare ad esempio chi ha avuto meno spazio, visto che siamo ormai alle ultime, soprattutto sui portieri ti chiedevo se ci può essere domani una chance per Sorbas e magari domenica prossima per Brichetto, visto che sono due che hanno lavorato in maniera abbastanza regolare e seria. Sì, ma io penso di mettere in campo la squadra più equilibrata possibile, perché noi domani troviamo un Chievo, il Chievo è una squadra più toste e più difficile da affrontare, per cui non penso che andremo a… qualche variante può esserci, ma non stravolgeremo assolutamente le cose in virtù di quello che dobbiamo finire il lavoro, perché ci teniamo a fare anche una buona partita domani e nello stesso tempo sappiamo che avremo di fronte un avversario che fuori casa è la squadra più difficile, se guardate il percorso del Chievo ultimamente esterno, immaginatevi che partita ci aspetta. Il portieri? Il portieri Liviano in questo momento, se non ha problemi fisici, penso che toccherà a lui difendere la porta del Palermo. Invece visto che ha recuperato Bazzaretti, può già essere la partita oppure no? Bazzaretti ha recuperato in queste due sedute, si è aggregato la squadra ieri, per cui è oggi e non penso che sia pronto per la partita. Ritornando al bilancio di questi mesi, c'è una partita che rigiocherebbe un errore che magari non vorrebbe più commettere? Ce ne sono di più di uno, per carità, perché il calcio ti porta sempre a fare delle scelte e a volte non sono matematiche, per cui nel senno di poi ci sono tante cose che sicuramente potresti rivedere come altre che invece sono andate a buon fine quando avevi magari delle incertezze. Il nostro è un lavoro che ha delle varianti incredibili perché lavori su delle risorse umane, su dei giocatori che magari fino al giorno prima ti hanno dimostrato grande affidabilità, fai una scelta, quell'affidabilità viene stravolta, per cui più di uno sicuramente. Lino due cose, immagino tu abbia anche voglia di congedarti dal pubblico di Palermo, uno dei motivi di questa partita è finire bene anche davanti alla gente di Palermo. La seconda domanda è, si parla molto di possibili addicoli, quelli di Migliaccio, quelli di Miccoli, insomma… Questo onestamente non mi sento di entrare nell'argomento… Non hai sudorato… No, assolutamente, ho sempre pensato a mantenere un certo spessore all'interno, proprio profilo nel considerare il lavoro, poi le scelte che verranno fatte da chi dovrà gestire il patrimonio spogliatoio, sarà compito loro. Io ho cercato di valorizzare fino in fondo anche certe situazioni magari un po' sforzate, perché era mio dovere, nello stesso tempo magari certe, come dire, abbiamo già detto anche l'altra volta, sicuramente certe strategie devono essere riviste e fatte in maniera più attenta, meno improvvisata, con un percorso e un progetto serio e bene sposato, con delle varianti continue o delle situazioni così umorali. È questo che probabilmente quest'anno è mancato al Palermo, una gestione e un percorso ordinato da grande squadra e poi alla fine io vi dico che è andata bene, perché a volte non chiudi sempre le annate in maniera così. Ti chiedevo il saluto alla gente, insomma. Ah, quello certo, assolutamente. Ma mai già, te ne proprio mi hai fatto fuori. No, assolutamente. Ma è chiaro, non ci sono problemi, anzi, io sono sempre molto come ero a Messina, come sono stato in altri posti, come anche dieci anni fa e è chiaro che ci tengo a… ma è nel mio costume, il rispetto e la riconoscenza sempre di chi ti permette di lavorare e di esprimerti in qualsiasi ambiente e soprattutto qui a Palermo dove c'è molta educazione e rispetto al lavoro, perché effettivamente è un ambiente importante a livello operativo per come puoi lavorare, ma anche per voi, perché vedo che c'è anche come stampa, al di là poi di certe tendenze o certe situazioni magari un po' forzate che ognuno per interessi propri, di testata o di… deve fare, però si lavora bene, per cui mi esonero e vi ringrazio, ti anticipo, nel senso buono. Potrebbe essere un saluto di fine stagione, non un po' forza. Sì, ma abbiamo visto che magari… per cui, maestamente, devo dire che si è lavorato bene, anche nelle nostre difficoltà e anche con voi è stato un buon percorso. Paolo? A proposito di questo ti volevo chiedere se quando sei arrivato al Palermo in questa seconda fase con la squadra ottava in classifica, con una rosa comunque importante, al di là dei problemi che poi hai trovato, non pensavi o speravi di fare di meglio, cioè di avere forse per la prima volta, non dico la tua carriera perché hai allenato il Messina comunque portandone, un gruppo per ottenere dei risultati forse i migliori della tua storia da allenatore, pure brillantissima. La seconda è tecnica, se domani giochi… insomma, Zavi, Vasquez, se riesci a… gli dai una chance magari dietro le punte, se giochi con un tre quartista e due punte? Allora, a parte il settimo posto di Messina, è stata un'annata importantissima, un campionato per cui è storia. Quando siamo venuti qua, problemi c'erano, per cui al di là della posizione in classifica c'era una situazione molto drammatica e in fase proprio così di caduta libera, un calendario che ha aiutato una squadra a fare dei punti in casa in maniera diciamo abbastanza tranquilla con delle squadre che poi ci siamo dovuti andare, e lì è la forza che abbiamo costruito il campionato a fare dei risultati fuori casa contro le dirette avversarie e purtroppo abbiamo avuto sempre situazioni di grande… il calendario ha avuto una fisionomia un po' particolare, dove certe situazioni per noi erano molto complesse in casa e molto complesse anche fuori casa. Nello stesso tempo abbiamo portato a casa 22 punti in maniera diciamo così equilibrata, costruendo una struttura di squadra anche a livello esterna che prima non c'era, andando a fare gol, proponendo una squadra molto più combattiva, più sobria, mi sono mancati quei 5-6 punti come ti ho detto prima, che per fattori varie purtroppo, e ti dico anche un po' arbitrali, non entrano, però non è finita, non è finita. Ci tieni a finire a 48 per esempio? Mi piacerebbe fare ancora 3-4 punti, una vittoria domenica e poi andare a giocarmi la partita col Geno, questo sicuramente. Però adesso bisogna stare attenti anche alla testa di certi giocatori perché quando c'è un certo, è questa un po' le difficoltà nostre a gestire queste fasi finali dove magari certi obiettivi ormai non esistono più, invece per noi allenatori sono sempre lì. Grazie a tutti, grazie.